spettacolare vero? ma andiamo con ordine e torniamo all'inizio del giro col kayak da mare lungo la riviera del conero dalla spiaggia del taunus fino alla grotta dei lavi lo spettacolo del mare al mattino presto si parte un po' 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 un E ora costeggiamo la scogliera di fronte alla spiaggia del frate. E ora costeggiamo la scogliera. 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 E qui ogni anno che passa frana un nuovo pezzo di monte. E ora costeggiamo la scogliera. E ora costeggiamo la scogliera. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In tempo di girare nel verso giusto il kayak e entriamo nella grotta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao.